Buongiorno a tutti da Antonella Falcioni. Oggi vi dimostrerò come dipingo un uovo di struzzo. Innanzitutto l'uovo di struzzo ha la particolarità di dover essere messo sopra un supporto, quindi bisogna creare il supporto di legno di qualsiasi altro materiale. Inoltre ha il buco che andrebbe tappato con dello scotch di carta, in questo caso l'ho messo e appoggiato per togliere il buco. Metto comunque uno spray primer, uso dei pennelli di martora a punta tonda, a punta piatta. I colori che utilizzerò sono colori acrillici, verso un po' di colore su un piatto di plastica. I colori verranno diluiti con acqua. Inizio così a tracciare il disegno. Il video sarà naturalmente velocizzato per poter accorciare i tempi. Grazie e buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!